buongiorno benvenuti a tutti io sono dimitri bellini e siete di nuovo qua insieme a me su quadrata il mio canale dedicato al mondo dell'open source e all'it in generale che piace a me e spero che piace anche a voi cosa vedremo questa settimana andremo a ricondizionare le nostre classiche email che provengono da dispositivi più o meno vintage in una maniera nuova cioè con l'utilizzo delle notifiche sui nostri tool che ci piacciono di più potrebbero essere non so microsoft teams piuttosto che discord che telegram eccetera e vediamo come facciamo aiutandoci con le mie fantastiche slide il prodotto si chiama mail rise mail rise è una soluzione chiaramente open source che ci permette come vedete anche nella slide di dar nuova vita no alle alle tradizionali mail che si utilizzavano fino a poco tempo fa cosa ci serve per poter utilizzare questa soluzione banalmente una macchina linux con installato docker perché sfrutteremo la soluzione containerizzata volendo potete anche usare poi la soluzione python libreria si può fare nessun problema perché la dovremmo utilizzare perché come ho già detto ci sono tanti dispositivi che effettivamente possono solo inviare delle notifiche tramite email le mail negli ultimi anni sono diventate un problema quindi i provider di servizi mail o perlomeno quelli che forniscono le smtp server incominciano a fare un po' no a essere più titubanti su chi può inviare sta email e molte volte vi ritrovate con le mail che sono finite in spam o hanno algoritmi o password che sono troppo complesse o sistemi di sicurezza che non la vostro al vostro applicativo non supporta perché magari avete una telecamera di dieci anni fa e quindi i sistemi di encryption non sono supportati o magari avete l'esigenza di avere una notifica immediatamente banalmente o su un sistema che già utilizzate tutti i giorni no e quindi volete avere lì tutto quanto e mail rise ci dà questa possibilità ok come vi dicevo mail rise semplifica il tutto e rende questa no questo passaggio da email a sistema di notifica moderno molto più semplice perché tramite una semplice configurazione possiamo configurare i nostri sistemi di notifica che ci piacciono di più possiamo gestire le mail sia autenticate che non autenticate in maniera semplice senza diventare pazzi e qual è la core feature di mail rise utilizzare le librerie che si chiamano app rise che una libreria che vedremo dopo che apre le porte veramente a un insiemità scusate una bassità di opzioni e in più possiamo anche customizzare il messaggio in arrivo in base a delle nostre esigenze e chiaramente poi è anche open source no e non fa mai male come funziona tutta la soluzione è banalissimo è veramente una cosa semplice non richiede tante risorse è un codice molto lightweight e quindi noi abbiamo la nostra mail rise app la possiamo vedere come un contenitore in cui ci sarà una parte dedicata alla gestione delle mail in arrivo tramite un smtp emulato una specie di relay server che ascolta di default sulla porta 8025 no al 25 era la porta del mail server strana tradizionale questa è l'ottanta 25 dopo aver ricevuto la mail mail rise la passa chiaramente alla libreria apprise che si occuperà poi a di farla recapitare al sistema di notifiche che noi abbiamo deciso che può essere appunto dal telegram al ma lo smartphone sfruttando le google libraries eccetera vedete che qua noi possiamo integrare questa soluzione con tantissime cose dal crontab del nostro dalla nostra macchina linux no quindi magari abbiamo delle segnalazioni che vogliamo avere immediatamente possiamo trasformarle da mail a instant messaging veramente facilmente tutte le sistemi iot telecamere o altre aggeggi che avete in casa che non è che hanno molte altre opzioni che inviare una mail anche qua le convertiamo parliamo di apprise che è la parte core oltre la parte vabbè delle smtp che accoglie le mail apprise è una libreria molto utilizzata e in continuo sviluppo che ci permette di fare che cosa di con un'unica libreria gestire tutti i sistemi di notifica ed è veramente semplice perché sfrutta un metodo per organizzare dove mandare i messaggi in formato YAML quindi è abbastanza semplice supporta anche la possibilità di inviare degli attachment o delle immagini ai sistemi di notifica dipende poi da quale sistema state utilizzando di notifica magari quel sistema non lo supporta però di base apprise in base al tool che utilizzerete vi permette anche di fare questo come vedete supporta qualunque praticamente qualunque sistema di notifica se andate poi lo vedremo nella pagina web ma veramente ce n'è un macello supporta anche però non solo sistemi di notifica come notate qua sotto ma anche la possibilità di scrivere su rss log quindi utilizzare il protocollo rss log sys log mqtt e anche dei provider sms o le notifiche quelle native dei sistemi linux e windows ok perché ci sono nei sistemi desktop dei sistemi per inviare delle notifiche all'utente senza sfruttare terze parti altri oggetti oppure fare delle custom notification tramite sistemi form json xml quindi se voi volete inventarvi qualcosa e lo volete volete integrare il tutto all'interno del vostro applicativo potreste anche pensare di utilizzare questo metodo altra cosa interessante è che i messaggi vengono tutti quanti spediti in maniera asincrona di nuovo anche questo è molto importante come facciamo installarlo dicevamo prima sfrutteremo docker questa è la mio run del docker molto semplice cos'è che è importante chiaramente la porta potete cambiarla assolutamente ma quella di default è l'8025 quindi il vostro dispositivo che invierà le notifiche dovrà sapere che l'ip è l'ip su cui avete installato questo container e la porta è l'8025 anziché la classica 25 poi dovremo passare un file ok non una directory ma un file al container quindi voi dovete crearvi un file di configurazione per mail rise e passarlo all'interno del container su etc mail rise punto conf in modo tale da istruire il container su che cosa dovrà fare l'altra parte che è fondamentale è chiaramente capire come funziona il file di configurazione di base semplicemente senza andarci a complicare troppo la vita e per avere un sistema che accolga qualunque email senza autenticazione dovete fare una cosa del genere quindi andate a mettere una direttiva configs e poi qua andrete a dire ok tutte le email che arrivano indirizzate a my discord con chiocciola asterisco quindi io posso avere qualunque dominio posso dire ok mydiscord chiocciola quadrata punto deb mydiscord chiocciola pippo punto com gestisci le in questo modo quindi urls vuol dire esegui questo percorso di notifica in questo caso gli ho detto sfrutta la modalità discord ok quindi queste qua sono pre cablate bisogna andare a leggere dal sito app rise o da mail rise ci sono degli esempi lo vedremo dopo e qua poi dovrete andare a inserire il web book web book id e web book token che vi fornisce discord ok quando create il canale qua un esempio di mail fatta dalla shell della mia macchina linux in cui vado a passare appunto il from che sono io no un from qualunque volendo si può anche blindare all'interno del file mail rise.conf questa cosa un soggetto e poi a chi la sto indirizzando e qua va beh il body del messaggio ok andiamo a vedere live cosa succede anzi prima andiamo a vedere sul sito ufficiale di mail rise la pagina se la trovate su github vi lascio i link in descrizione qua comunque trovate una spiegazione di come funziona gli esempi di default la configurazione prevede che il ricevente quindi gli esempi che vedete qua sotto vediamo un attimo qualche esempio qua telegram e in discord qua dovrete mandare una mail vedete che non c'è chiocciola asterisco quindi lui si aspetta che andrete a mandare una mail a telegram and discord e mail rise punto xyz ok quindi se omettete il chiocciola asterisco o la chiocciola con il dominio specifico lui andrà a sostituirla con mail rise ok quindi state attenti quando andate a fare il file di configurazione qua troverete qualche altro esempio quindi qua nella configurazione potete fare un insieme di percorsi particolari in base alle vostre esigenze e potete anche andare a definire chiaramente la parte di autenticazione volendo e altre cose se noi andiamo a vedere invece a price scoprirete che la parte di plugin è sterminata vedete qua ci sono tutte le possibili soluzioni di plugin per comunicare con i sistemi di notifica più importanti ma ci sono veramente tutti tutti guardate che roba c'è veramente di tutto se cliccate poi qua sul singolo sistema vi dà le informazioni più dettagliate e comunque ce ne sono veramente una dozzigliarda sms la parte che vi dicevo della parte di desktop notification con linux debast linux gnome notification mac os windows e poi eventuali altre soluzioni di forward dell'email quindi avete un insieme di opzioni per utilizzare questo questo mail rise mostruose possiamo vederlo come il coltellino svizzero del mondo operational o del mondo lab domestico quindi torniamo sulla console e andiamo a a vedere cosa avevo combinato per lanciare il nostro container classico comando docker run meno di name mail rise mettete quello che volete e poi quello che vi dicevo prima fondamentale andare a definire il file di configurazione io l'ho posizionato qua e quindi se vado a vedere che cos'è andiamo a vedere il contenuto in questo caso vedete che il contenuto è formato da due direttive una discord chiocciola e l'altra argent chiocciola quindi sono due destinatari ben differenti perché fanno due cose differenti ma tanto per farvi vedere che potete riplasmare per esempio in questo caso il messaggio che noi abbiamo mandato lo andate a cambiare come volete voi per dare magari qualche enfasi in più alla notifica che riceverete se io vado a vedere il container ma andiamo a fare un docker logs cosa vi è utile il docker logs per andare a debuggare eventuali problemi se vedete che non funziona qualcosa o che avete creato delle regole che non tornano usate docker logs per andare a debuggare cosa sta succedendo quando invio una notifica proviamo a vedere sfruttando appunto la funzione mail x di dei sistemi linux quindi qua ci metto il mio body ecobody e poi le informazioni quindi questo mittente qua potrebbe essere qualunque cosa il soggetto anche questo potrebbe essere qualunque cosa quello che è importante invece è il destinatario ok quindi se io utilizzo un destinatario non non corretto non funziona nulla proviamo a vedere e proviamo andare a cambiare per esempio una un qualcosa qua metto mettiamo discord 111 qua mi dice che si è collegato però andremo a vedere i log e vedete che qua mi dice che non trova nessun recipient per l'utente discord 111 ok quindi la mail è stata mandata ma poi non è andata da nessuna parte quindi occhio a quello che create all'interno del file di configurazione se invece a vado e puliamo un attimo qua andiamo a fare un eco del di un messaggio qualunque che funziona switchiamo in modalità da vedere anche discord cosa succede su discord ok e come notate guardate qua track immediatamente è arrivata una notifica su discord io l'ho configurato così perché la cosa più semplice che mi che avevo a disposizione se proviamo a fare la stessa cosa ma andiamo a mettere argent qui quindi andrà a plasmare il messaggio su discord noterete che effettivamente è stato modificato il soggetto e il body del messaggio ok quindi in base alle vostre esigenze potrete anche ri plasmare il tutto detto ciò direi che per oggi è tutto perché abbiamo già detto abbastanza su questo tool secondo me è molto molto interessante perché vi permette di retrofittare no di andare a dare una spolverata a tutti quei dispositivi che possono usare solo le mail la funzione di invio notifiche verso uno dei vostri instant messaging solution più interessanti spero che questo contenuto vi sia piaciuto cerco sempre di trovare qualcosa di interessante furbo nuovo e questa volta ho detto facciamo questa cosa qua perché era veramente interessante mi intrigava questo tool fatemi sapere però cosa ne pensate qua sotto nei commenti detto ciò un saluto da dimitri mi raccomando mettete un bel pollicione se vi è piaciuto il video e ci vediamo la prossima settimana ciao a tutti